E torniamo allora in diretta da Terra Madre, Parco d'Ora, Torino. Sono cominciate da pochissimo la nostra prima diretta di oggi su RBRadio TV. Come sempre potete seguirci sia in streaming che sul canale 87 di Digitale Terrestre e anche su diverse frequenze nelle province di Torino, Cuneo e Asti, anche in alcune province della Liguria. Ma intanto, mentre cominciano ad affollare gli stand le persone, molti ragazzi, molti studenti, devo dire che questo è anche molto confortante, molto ci fa ben sperare, devo dire. Intanto voglio dare il benvenuto alla nostra prima ospite, Serena Milano, direttrice sull'All Food Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo, Serena, intanto cominciato a inquadrare, se vogliamo, il macro tema. Ma con te stamattina vogliamo provare anche a fare un ragionamento ancora più ampio rispetto al tema di quest'anno di Terra Madre. Perché, come dire, c'è una grande ambizione dentro il payoff di quest'anno. Noi siamo natura. Nel senso che da questa affermazione non si scappa. Non si scappa. Sembra un'affermazione ovvia, no? Certo. Sembrerebbe quasi, come tutte le ovvietà di un'importanza capitale, come tutte le grandi verità che sembrano ovvie, noi ce le dimentichiamo ogni giorno. Quindi lo sappiamo tutti, ma viviamo come se non lo sapessimo. E viviamo come se fossimo spettatori, come se la natura fosse da sfondo alle nostre vite, alle attività produttive, o come se fossimo anche peggio, come se fossimo i padroni. E la natura ci sta presentando il conto, no? Lo ha fatto in modo importante negli anni del Covid, ma lo fa ormai da troppo tempo e continuiamo a fare finta di nulla. Ecco, quindi si può ripartire di qui, da una presa di consapevolezza che noi non siamo qualcos'altro. Siamo natura. E quindi quando noi devastiamo la natura, devastiamo noi stessi. Quando noi, se non ci prendiamo cura della natura, non ci prendiamo cura di noi stessi. Il cibo può essere uno strumento potente in questo percorso, perché il cibo è l'elemento più forte che ci lega ogni giorno, almeno due o tre volte al giorno, se siamo fortunati, con la terra. Ci riporta alla terra. Il cibo arriva dalla terra. Qualunque cibo arriva dalla terra. E quindi tre volte al giorno ci ricorda, ci riporta con i piedi per terra. E allora può essere una leva di cambiamento straordinaria. E qua, a Terra Madre, ci sono migliaia, migliaia di produttori di tutto il mondo. Qua in cinque giorni si può fare il giro del mondo. Ma non è solo questo. Questi produttori sono qui per affermare che c'è un'agricoltura nuova, non vecchia. Non sono qui a raccontare il passato, la nostalgia per il passato. C'è un'agricoltura nuova che ritrova un equilibrio con la natura, che si basa sulla cura dell'acqua, del suolo, delle risorse essenziali per la vita di tutti noi. Ma intanto, pensavo, mentre parlavi a un elemento, in questi giorni stiamo anche all'interno delle nostre trasmissioni parlando molto del conto che la natura ci presenta. Ne parlavi poco fa. Ieri abbiamo incontrato anche la climatologa Elisa Palazzi che anche attraverso il suo lavoro di divulgatrice, ma anche attraverso l'ultimo suo libro, diceva che la Terra non è spacciata se ognuno di noi riesce a mettere in campo delle buone pratiche per provare a rallentare quantomeno questa inesorabilità, se vogliamo. Però il racconto generale ci dice tutt'altro. Io faccio volutamente la parte dell'avvocato del diavolo perché molti probabilmente ritengono che questo ritorno concreto anche alla terra, alla natura, ad un'agricoltura più responsabile è un elemento per molti. Io non la penso così, ma non mi voglio neanche affrancare da questo ragionamento una sorta di ingenuità alla base di questo ragionamento. Invece, evidentemente, anche Terra Madre dimostra che non è affatto così. Sì, intanto faccio un passo indietro quando hai detto la Terra è spacciata, no? Per dire che la Terra non è spacciata, siamo spacciati noi. La Terra, se domani scomparisse il genere umano si rigenerebbe in pochissimi anni. Quindi in questo momento si è come un elemento patogeno per la Terra. E la Terra sa espellere gli elementi patogeni, non l'ha già fatto in passato. Quindi questa è la premessa, dobbiamo fare qualcosa per salvare noi stessi. Una premessa inesorabile però. Non c'è scampo rispetto a questa premessa. Non c'è scampo, dobbiamo fare qualcosa. E poi a me fa sorridere che un'agricoltura che sta devastando il pianeta, che sta devastando i suoli, perché noi abbiamo un problema drammatico di cui nessuno si usa, che è l'inaridimento del suolo, la desertificazione, ma non nel sud del mondo. Noi abbiamo un processo di desertificazione in corso in Italia. Noi abbiamo il 70% dei terreni agricoli siciliani che sono sull'orlo della desertificazione. Questo è il risultato di un'agricoltura che non ha arricchito, non ha nutrito il terreno, ma lo ha impoverito progressivamente. Abbiamo un problema di acque inquinate, abbiamo un problema di falde inquinate dall'agricoltura, abbiamo un problema di aria inquinata dall'agricoltura, perché le polveri sottili degli allevamenti intensivi sono un elemento drammatico per tutta la pianura padana. Sto parlando dell'Italia, potrei parlare del mondo. Mi fa sorridere che questo tipo di agricoltura che non ha sfamato il mondo, non l'ha sfamato, non abbiamo risolto il problema della fame, perché normalmente il tema è che bisogna sfamare miliardi di persone. Non li sta sfamando, perché c'è un problema di accesso, non di quantità. Non ha sfamato il mondo. Sta minando le basi della produzione di cibo, suolo, acqua. Sta inquinando e produce un'enorme quantità di spreco. Un terzo di quello che produciamo viene buttato via. Allora, questo modello è considerato il modello più pragmatico, realista, in linea con l'economia, con la finanza, il modello moderno, il modello inevitabile, se vogliamo guardare avanti. Mentre un modello che si preoccupa di preservare, rigenerare la base della nostra vita, il suolo, la biodiversità, la qualità dell'acqua, la qualità dell'aria e, non ultimo, la nostra salute, è considerato ingenuo. Ingenuo. Un residuo, un rettaggio del passato, un atteggiamento nostalgico. Io la trovo bizzarra, no? Questa... Bizzarra è anche il responsabile, devo dire, anche la semplificazione, perché per arrivare poi anche tra poco ad uno degli ambiti, anche del tuo lavoro quotidiano, che sono le tre altre, che insomma è un tema che affrontiamo anche da tempo, pure all'interno dei nostri ragionamenti quotidiani, anche in radio e tv. C'è un altro elemento che è quello della custodia, diciamo, dello spazio che abbiamo, l'azione del custodire è fondamentale per il racconto dei luoghi di cui tu parli anche dentro il tuo lavoro, si parla di Bosco, di Prato, di Pascolo. Anche l'elemento del custodire, diciamo, l'azione del custodire suona antico, ma quanto mai attuale, no? Quanto è fondamentale oggi, nel 2024, prendersi cura e custodire un ambito, un ambiente? Forse fai il paio o con i ragionamenti che stiamo facendo finora? Sì, fa il paio. Ci sono... È un problema di narrazione, di narrazione. Tutte le narrazioni sono state capovolte. Cioè, preservare, custodire... Custodire è un'azione che guarda al futuro, non è un'azione... Noi custodiamo per le generazioni future, non custodiamo per nostalgia. È considerato l'atto di custodire, la parola custodi, preservare un atteggiamento passatista. Mentre è il principale atteggiamento che guarda al futuro. È l'unico atteggiamento che non guarda al prossimo anno, a questa tornata elettorale. Ma guarda... È l'atteggiamento più generoso e lungimirante possibile perché ci si preoccupa per chi non è ancora nato. Ci si preoccupa per chi non è ancora nato. Ecco, questo è passatismo. Preoccuparsi per i prossimi secoli e non per l'anno prossimo. È passatismo. Altra narrazione capovolta, le terre alte. Terre alte sono luoghi... I luoghi marginali, le aree interne, i luoghi spopolati, trascurati, bisogna occuparsene perché altrimenti diventano un problema anche per avanti. Però abbiamo questa idea. Le terre alte rappresentano l'85% del paese. È un numero che fa impressione. No, l'Italia è un paese di montagne e colline circondato dal mare. Certo. Dagli anni 50-60, gli anni che sono stati definiti con termini altisonanti, boom, miracolo, da quegli anni lo sviluppo del paese ha iniziato a concentrarsi sulla pianura, le coste e le città. e il paese è scivolato a valle, è scivolato a valle, spopolando l'80% del... Se mettiamo insieme collina, alta collina, alta collina e montagne è 85, se no 80. Allora, e noi nella narrazione quotidiana è di nuovo quasi un po' naif occuparsi di queste aree marginali, quasi da... quasi da... cioè una scelta... la scelta di vivere in montagna è una scelta così estrema di isolamento, un po' bucolica, un po'... ma è incredibile questo. Sì, sì, oggi alla base di tutto c'è la narrazione. La narrazione, capovolta. Sia perfetto questa definizione. Ma non è un caso, segue l'economia, segue l'economia, è l'economia che oggi ha dimenticato l'85% del paese. in quell'85% del paese le persone non hanno gli stessi diritti di chi vive in città perché per raggiungere una scuola devono fare 50 km, non hanno lo stesso accesso ai servizi sanitari, non hanno... e quindi via via che si riducono i servizi le persone si spostano perché una famiglia con bambini che non riesce a gestire la scuola o non riesce ad avere un medico vicino si sposta via via che si sposta si tolgono altri servizi circolo vizioso terre alte abbandonate a quel punto terre alte non più curate senza agricoltura senza pastorizia senza cura del territorio significa devastazione a valle ma come si fa ad incentivare diciamo ad avvicinare quantomeno quell'85% quantomeno per quanto riguarda i servizi al resto che ovviamente è il territorio minimale senza un atteggiamento che sia invasivo diciamo e quindi che rischia anche di rovinare quelle terre alte è chiaro che magari non esiste una ricetta però non esiste una ricetta ci vuole la politica quella con la P maiuscola ci vuole una politica che abbia una visione e quindi ci vuole non si può lavorare per settori non c'è una risposta la risposta per esempio non è il turismo il turismo può anche devastare stavo per chiederti se la risposta può essere un pezzo di risposta è gestito in un certo modo un pezzo ma non può essere perché se diventa la risposta allora investiamo sulle Alpi per la neve artificiale per fare piste da Bob che useremo qualche mese e non per e non per riuscire a vivere di nuovo queste montagne 365 giorni all'anno non due mesi all'anno o nel mese della settimana bianca ecco un pezzo può essere il turismo ma poi devono essere di nuovo vive devono esserci i servizi devono esserci attività devono essere curati i suoli i terreni ci devono essere agricoltori ci devono essere pastori ci devono essere e di nuovo questo non è un ritorno al passato ci sono formule nuove per fare aziende agricole in montagna formule che mettono insieme l'aspetto didattico che usano le tecnologie per non essere isolati oggi oggi si può stare in montagna e non essere isolati dal resto del mondo ma di nuovo questo non significa che l'unica soluzione per la montagna è lo smart working cioè che andiamo perché in montagna c'è più silenzi e facciamo smart working è un pezzo anche quello può essere un tassello riportare poter avere un lavoro più diffuso è un tassello ma sono tutti i tasselli chi è che può mettere insieme tutti i tasselli una politica che abbia una visione a proposito di questo e poi insomma siamo quasi in coda questa conversazione io starei qui a conversare con te tantissimo so che come dire incomono anche degli impegni particolarmente importanti insomma tra pochissimo che ti riguardano ma intanto si parlava di politica in questi giorni ci sono le istituzioni che vengono anche qui a Terra Madre è un momento importante anche per come dire se vogliamo richiamare le responsabilità perché ovviamente questo potrebbe essere anche una bella passerella ma poi insomma non è che tutto finisce il 30 settembre no assolutamente ma noi siamo qui per questo esatto vogliamo parlare a tutti alle istituzioni alla politica alla scienza all'accademia alle università ai produttori perché anche gli agricoltori devono fare delle scelte abbiamo visto le proteste dei mesi scorsi piene di contraddizioni anche loro devono fare delle scelte ai consumatori ai ragazzi ci sono un sacco di ragazzi di bambini di studenti ecco la capacità di Terra Madre ma è anche la capacità credo di Slow Food tutto l'anno è di parlare a tutti non siamo settoriali non siamo un'associazione di categoria parliamo agli agricoltori ma parliamo alle istituzioni e parliamo ai consumatori che non ci piace chiamare consumatori parliamo alle cittadine ai cittadini consapevoli parliamo a tutti a tutti e chiediamo in modo forte un cambio radicale nel sistema alimentare che è il sistema alla base della vita di tutti noi custodire preservare innovare cambiare richiamare alla responsabilità saccheggio una frase per salutarti Serena ringraziandoti per la tua disponibilità un passaggio proprio rispetto all'ambito delle terre alte sul sito di Terra Madre perché l'invito è a toccare con mano quanta bellezza e progettazione futura possa esprimersi in ecosistemi gestiti con gentilezza ci vogliamo salutare su questo elemento quello della gentilezza perché anche qui suona retorico ma forse è la chiave del futuro è di nuovo la narrazione suonano retoriche la bellezza la gentilezza la cura l'amore che cosa stiamo diventando bellissimo bellissimo allora Serena Milano direttrice Slow Food Italia grazie per essere stato su RBE noi intanto un po' di musica infotraffico muoversi in Piemonte il GRD Popolare Network e poi siamo ancora qui a Terra Madre